Ciao a tutti da Saridore, bentornati su The Town of Light. In questo episodio scopriremo sempre di più l'incredibile storia della nostra protagonista, una ragazza di 16 anni incarcerata in un ospedale psichiatrico. Scopriremo delle cose veramente allucinanti, ma non aggiungo altro. Buona visione. Ed eccoci di nuovo qua da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Dunque, ok c'era troppo silenzio, pensavo se fosse bagato l'audio, invece no. Allora, ci siamo ritrovati con la bambola, che non mi ricordo già più come si chiama. Però, ho notato una cosa. Allora, se andiamo su Sinossi, avevamo visto il filmato iniziale dove la mamma di René, appunto, era ossessionata dalla bambola. E René si sentiva appunto a disagio per questo. Ok, adesso dove dovremo andare? Non ne ho la più palida idea. Eccoli, partono i suoni, perfetto. Ok, allora, dovremmo essere giunti nel posto giusto, credo. Qui le lampade potrebbero essere una buona fonte di calore. Ma Charlotte è scomoda. Non è a suo agio. Ok, quindi queste lampade c'entrano qualcosa. Sì, ok. Allora, dobbiamo trovare qualcosa, sicuramente, per far comoda, star comoda Charlotte, dove? Proviamo a tornare di sotto, vediamo un pochettino cosa succede. Allora, tornando in giro e girando un pochettino così a caso, ho notato che qua mi dà un punto, mi dà un qualcosa. Ah! Ecco un posto comodo per Charlotte. Ok, a caso, eh. È freddo. No, no. È freddo. Non tremare. Il freddo passerà, Charlotte. Passerà. Ok. A questo punto, fortunatamente, molto fortunatamente, eh. Ah! Possiamo portarla in giro. E quindi, credo, a questo punto, che dovrò portarla su di sopra dalle lampade. La cosa è abbastanza inquietante, eh. Domanda, come ce la porto? Lo ascensore funziona? Ok, l'ascensore funziona. Wow! Guarda che spettacolo. Ma... Il top della sicurezza, eh. Ma a quegli anni, vabbè, ci accontentiamo. Anzi, per quegli anni era già sicuramente molto... Di più di... Ecco, solito. Noi se non ci baghiamo con la porta, non siamo contenti, eh. Eh, dove sei, Charlotte? Qua. Ok. Prendiamo... Prendiamo l'ascensore a questo punto e portiamola su. E... Il gioco mi fai... Mi... Mi fai girare? Ah, grazie. Ok, suppongo sì. Dobbiamo chiudere la porta e dobbiamo pigiare su uno. E andare al piano di sopra. Eh... Io, sinceramente, ma col cacchio che ci starai qua. Ok, siamo arrivati. Apriamo la porta. Eh, adesso si apre bene, eh. Ok, riprendiamo la nostra carrozzina e... No, no. Gira. Turnica, arrotati. Ok. E a questo punto la porteremo qua. Credo che sia la cosa giusta da fare. No, non la porteremo qua. Eh, stai un attimo l'idea. Ah, no, eccola qua. Ok. Portiamola qui. Vediamo se succedono cose. Il freddo va via, hai visto? Sono successe cose. Il caldo. Noi lo possiamo fare. Il freddo va via. Non è proibito. Ora possiamo entrare in quel reparto. Quello dove cominciò tutto. Ok. Ah, con H possiamo ricevere un aiuto. Tutto iniziò nel reparto di osservazione, al piano terreno. Ok. Vabbè. Questo era abbastanza inutile anche perché sapevo comunque che dovevamo... Dov'è l'ascensore? Dovevamo scendere al piano di sotto. Quindi, diciamo che... Chiudimi la porta. Andiamo giù a piedi che facciamo prima. Allora, reparto di osservazione. No, lì c'erano le tranquille. Sarà di qua. Osservazione, eccolo, infatti. Ok. Reparto 1. Entriamo? Ok. Parte la cazzin. Mamma mia. No, non è partita la cazzin. Non sei per nulla inquietante. Gioco, non sei per nulla inquietante. Porca Eva, ragazzi. Entrare qua dentro sei consapevole di entrare all'inferno. Perlomeno per quei tempi, eh. Gioco, se magari... E io di là come ci vado? Eh, così. Sì, così gioco. Maledizione. Mamma mia. Cioè, è allucinante. È inquietantissimo. Ok. Stessa dinamica? Sì, stessa dinamica. Porca Eva, ragazzi. Cioè, eri consapevole che entrare qua dentro voleva dire entrare e non uscire mai più, forse. O se uscivi, uscivi con chissà quali altri problemi, altri disturbi. Ok, cosa... Cosa abbiamo qua? Dove cacchio dobbiamo... Ah! Era un'altra parete. Mamma mia. Gioco, non sei per nulla inquietante, sappilo, eh. Non mi immaginavo una cosa del genere. Ok, dove siamo arrivati? Cos'è sta roba? Non riesco a capire. È tutto estremamente allungato. Andiamo avanti, vediamo cosa ci aspetta. Mamma mia che posto. Credo non ci siano parole per descriverlo. Ma sono letti, no? Non riuscivo a vedere e non mi posso neanche girare per guardare. Un giorno ho spento la luce ma il buio non è arrivato. Era un'immensità senza limiti. Una luce accecante senza misericordia. Avevo 16 anni. Ed avevo paura. Sempre paura. Una paura che mi logorava. Avevo bisogno di aiuto ma non riuscivo a parlare. Mi terrorizzava tutto. Anche pensare. Dissero che mi portavano in un posto dove la paura andava via. Dove sarei stata meglio. Sì, certo. Proprio. Mi trascinarono via e mi strapparono ogni cosa di dosso. Ogni cosa. Cercai di spiegare quello che mi succedeva. Mi legarono a letto. Per giorni. Abbandonata ai miei incubi. Non era più paura la mia. Era pazzia. E quando sei pazzo non esisti più. Frase più vera non esiste. Purtroppo quando sei pazzo non esisti più. Ok, abbiamo aggiunto qualcosa al menu sinossi. E dove? Che, che, che è? A posto stiamo. Dove siamo? Non è un bel luogo. Possiamo muoverci? No, non possiamo muoverci. Possiamo fare qualcosa. Sì, possiamo fare qualcosa. Solo lei in quell'inferno. E tu chi sei? Stavo precipitando tra i dannati, ma lei e il suo sorriso mi tenerò in vita. E tu chi sei? Ok, vediamo un pochettino. Dove siamo finiti? Oh, una porta. Ok. Tra parentesi, lei ti poteva testaccare un pochettino di più, eh? Ok, e si fece notte. Ok, scendiamo il torcino, va. Eh sì, fece notte. Guarda qua le camerate. Eh, purtroppo non riesco a leggere. Ma ci saranno i nomi dei pazienti? Credo, non lo so. Ok. La porta è chiusa a chiave dall'esterno. Qui le porte si chiudono e si aprono solo da fuori. E, eh, come usciamo? Di grazia. Non ne ho la più palida idea. Vediamo se qua troviamo qualcosa. Gioco, ma hai fatto cagare. Ah, no, io non mi giro. Ok. C'è qualcuno che sta andando via. Eh, però la regola dei videogiochi è non ti giri. Se non lo vedi, non esiste. Cosa abbiamo qua dietro? Cosa c'è a aspettarmi? Una porta aperta? E, eh, chi, chi, chi è che ha aperto? Di grazia? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Da qui non si esce. Solo i morti potevano uscire. Ottimo. Purtroppo anche questa è una triste verità. Questa è chiusa. Questa è chiusa. Sono tutte chiuse, eh? Quella dove siamo... Ok, questa è chiusa. Questa è chiusa. Gioco, ce n'è un'aperta? Salle infermieri 1. Che è chiusa. È chiusa. Oh, abbiamo la mappa. Noi siamo qui. Ok, vediamo. Ok, qua ci dice tutte le cose. Ah, ho capito. Noi siamo entrati da qui. Gioco, se magari lo smetti. Vabbè, noi siamo entrati da qui, credo. No, da qua. Qua c'erano le stanze. Qua è, sì, il quadro elettrico. Quindi noi adesso siamo in questa... Gioco, ci stai fermo con la mappa. Siamo nell'altra ala. Ok, va bene. Andiamo avanti? È la fiera della porta chiusa, a quanto pare. Sì, a quanto pare... Sì. Mamma mia, quanto... Non sei inquietante di più. Ok, qui cosa abbiamo? Tutto devastato. Mamma mia, che viaggio, che trip che è. Se c'è una luce che indica qualcosa... Esperienza videoludica dice... Vai lì. È che volevo evitarmela. Ma è la bambola, Charlotte. Sì. Ok. Siamo ritornati nell'inferno, nel girone. Porca Eva, ragazzi. Quanta gente ha abbandonata a se stessa. Madonna mia. Signora, mi scusi, permesso, eh? Ripetere all'infinito le stesse cose. Gente che veramente non c'è più di testa. Madonna mia. Che... Che... E tu chi cazzo sei? Non sei... Sei abbastanza inquietante? Devo venire da lì? No, io lì da te non ci vengo. Ok, vediamo cosa vuole. Cosa vuole sto qua? Ha la bambola. Vuoi che ti segua? E... Direi che è abbastanza palese. Per cacchio siamo? Cos'è sta musica abbastanza inquietante? Dove siamo? Cos'è sto luogo? Ehm... Sono lavabili... Bagni? Dolce? Boh, non lo so cosa sono. Sì, pare di sì. Ah, bello. Dolce. Una vasca? Una vasca. Eh, abbiamo raggiunto il posto? Sì. A quanto pare sì. Lui rideva. Ansimava. Brutto maiale. Mi escovava addosso. Mi toccava facendomi male. Brutto bastardo maledetto. Pensavo che mi sarei spezzata improvvisamente con un grande rumore. Sbriciolata. Grandissima carogna, lasciala stare. Mi sento fragile, malata. Sbagliata, sporca. Potevo stringere Charlotte mentre lui... René obbediva. Lui era il capo della luce. Brutto bastardo. Il male che avevo fatto mi divorava. Vomitavo e potevo sentire l'inferno sempre più vicino. Dio mio quelle visite. Dicevano che c'era qualcosa dentro di me che l'avrebbero tirata fuori. Dio mio. Brutto maledetto bastardo. Abbiamo aggiunto qualcosa al menu sinossi. Ok, tre quarti d'ora per trovare come si accendeva la luce. Ma lo dimentico sempre. Brutto maledetto carognoso. Cioè, appena più che una bambina. 16 anni. E pertanto dicono che non è vero. Purtroppo, sì, succedeva. Purtroppo ai tempi chi aveva facoltà di parlare, chi era sempre dalla parte... Bello. Chi era sempre dalla parte della ragione, purtroppo erano appunto gli infermieri. Tante persone erano di buon cuore comunque. Possiamo fare qualcosa? Ah, possiamo aprire la finestra? Vabbè. Non credo che ci serva molto. No, no, accendi tutto. Tante persone erano di buon cuore, capivano. Però c'erano veramente anche degli elementi che... Io non credo neanche la giustizia divina sia riuscita a rimediare a tutto ciò che hanno fatto nelle loro vite. Ok, vediamo qua. Ah, qua possiamo uscire? Ok. Possiamo uscire. Bello. Vabbè, mi dirà è tutto abbandonato. Ah, possiamo uscire per venire fin qua. Giaco, cosa dobbiamo fare adesso? A parte che, voglio dire, mi sembra già abbastanza quello che abbiamo visto. Lei era con René durante quelle visite cattive. Le dava la forza di sopportare. Ok, quelle visite cattive. Quindi dovremmo andare nelle stanze di visita? Dove è la mappa? Ok, nelle stanze di visita. Allora, ho dato un'occhiata alla mappa, ma su questo piano non ci sono. Effettivamente delle stanze di visita. Io, quelle che mi ricordo, erano al primo piano. Sono qua le scale? Sì. Andiamo a vedere su di sopra. Allora, durante la cutscene però si è visto un lettino ginecologico. E quindi suppongo che... Ah, è subito qua? Ok. Dovrebbe essere subito qui? Chi è? Un gioco, siamo andati un po' troppo oltre. Sì, ginecologia. Quindi suppongo dovremmo andare qua. Non lo so. Ok, è partita la musichetta, quella bella. Ok, cosa abbiamo qua? Un gioco... Oh! Una sedia! Lo ginecologo! Wow! Che condizioni! Eh, suppongo dovremmo andare qua. Un gioco, mi ha detto, qui. Abbiamo qualcosa, un papiro. Un gioco, 1938. Confidenziale. Caro A, so come la pensi a riguardo di queste cose e quindi ti segnalo la paziente Renetti. La sciagurata ragazza è sfuggita all'attenzione e nel parco ha combinato un guaio. È quasi di tre mesi. Le infermiere dovrebbero fare più attenzione. Vedrò la ragazza il 28 per una visita. Ci penso io, stai tranquillo? Non aggiungiamo dolore su dolore. Poi dicevano che René era pazza e che il male era tutto nella sua testa. Stai attenta ragazzina, stai attenta. Io avevo paura e non parlavo con nessuno del male, solo con lei. Neppure con l'altro dottore. Lui non toccava mai René, scriveva soltanto. Puoi dirmi tutto? Non avere paura, diceva. Andrà tutto bene. Vuoi sapere che cosa scrivo? Scrivo quello che vedo di te, tutto quello che vedo. Non odiava René, cercava di aiutarla. Ma la visitava raramente, in quei piccoli ambulatori. Ok, certo, come si diceva prima, tutto quello che scrivevano gli infermieri era legge. E tutto andava bene per scazionarli. Perfetto. Cosa abbiamo qua? Ok, questo è sicuramente un ambulatorio di ginecologia. Ci sono dei libri molto, molto chiari a riguardo. Ok, allora, mi ha parlato. C'è la luce? Ah, è a mezz'ora che giriamo al buio e c'è la luce, va bene. Dei piccoli ambulatori? Boh, non lo so. Vediamo un attimino qua cosa dobbiamo fare. Ok, allora, ha parlato di piccoli ambulatori, quindi di conseguenza dovremo andare giù di sotto. Perché i piccoli ambulatori io me li ricordo giù di sotto. Allora, io sto sforzando tantissimo la mia memoria perché io memoria non ne ho, assolutamente. E dove sono gli ambulatori? Erano per qua, credo. Ok, appunto, gli ambulatori erano dietro di noi e non giù di sotto, va bene. Allora, noi abbiamo visto questo. Qui invece cosa c'è? Una caienna? Un disastro? Giugno 1935. Dopo tanto teorizzare i cliniche per privilegiati è finalmente giunto il momento di agire. Volterra è il posto giusto. Un ospedale all'avanguardia. Il posto perfetto per un medico che vuole contribuire al cambiamento. 20 novembre. Varcare la soglia del manicomio è stato come entrare in un'altra dimensione. Un mondo di odori, rumori e immagini che non si riescono facilmente ad immaginare, raccontare o spiegare. Agosto 36. La situazione è simile a quella di tanti altri istituti. Il reparto è sovraffollato. Centinaia di malate sono sorvegliate da una manciata di infermiere che si trovano costrette a legare ai letti e ai radiatori quelle più agitate. Fanno turni di 24 ore. Non è possibile lavorare così. Noi medici riusciamo a vedere le pazienti di rado. Sono le infermiere che ci dicono cosa succede alle donne. Ok, questo probabilmente è il diario di quel medico che parlava a René. Quello che la voleva aiutare. Perché ci sono troppe cose compatibili. Che la vedevo una volta ogni tanto, eccetera, eccetera. Sì, potrebbe essere, eh. 1937. Il puzzo acuto nei reparti. Il rumore continuo di grida e voci a cui di umano non rimane quasi nulla. Corpi nudi, sporchi, privati di ogni dignità. Il manicomio ti scava dentro, ti logora. Penso spesso di andare via. Mi sento inutile, impotente. Una sorta di carceriere pietoso. Una pietà che non giova a nessuno. E serve solo a lavare la mia coscienza. 15 marzo 1938. I drammi scorrono davanti a me tutti i giorni. E io cerco di tenerli a distanza e faccio quel poco che posso. Qualche giorno fa, però, è arrivata una ragazza. Dal suo sguardo non mi è stato possibile fuggire. Chiedeva solo, con la dignità del silenzio, di non essere strappata via dal suo mondo. E io? Potrei essere suo padre. Il padre che non ha mai avuto, che non l'ha voluta. Che l'ha rifiutata senza neppure conoscerla. Anche io le ho rifiutato quello che chiedeva. Non ho potuto fare altro che mettere una firma e spedirla all'inferno. Pericolosa per sé e per gli altri e di pubblico scandalo. Così era scritto sul foglio della questura. Difficile opporsi. Quanta violenza ancora dovrà subire questa ragazzina. Il suo sguardo è così profondo, così lontano dalla spensieratezza che dovrebbe renderla felice in questi anni. Ho pianto nel mio letto, nella mia solitudine, ripensando a quegli occhi tristi e spaventati che mi guardavano. Mamma mia, che colpo al cuore. Eh, purtroppo se i tempi... E comunque tuttora c'è scritto dalle forze dell'ordine che una persona è pericolosa, anche se comunque vedi che purtroppo ha bisogno di altri aiuti, avevi ben poco da fare. Ai tempi era ancora peggio. Adesso no. Perché comunque ci sono dei medici che fanno attentissime valutazioni, eccetera, eccetera. Però una volta quello che scriveva questura, forze armate, eccetera, eccetera, era legge e potevi fare ben poco. Ok, proviamo a vedere nell'altro ambulatorio cosa... Ambulatorio ci... Eh sì, ma è chiuso. Ah no, si può aprire. Apriamo tutto. Ok, eccolo qua. Sì, abbiamo trovato l'ambulatorio giusto, direi. Mamma mia. Università degli Studi di Bologna. Ok. Professor... Blablabla, non si legge il nome. Ok. È uno specialista in psichiatria con voti 70 su 70. Cazzolina. Complimenti, doc. Ok, vediamo qua cosa troviamo. Eh, le solite lettere che non saranno mai state. Spedite. Ah, un telefono! Ma che figata! Ok. Queste sono... Ah, le sirine... Uh, sì, me le ricordo. Dovrei avercene una ancora. Si usavano in tempo di guerra. Erano... Erano siringhe in vetro che praticamente venivano fatte bollire e di conseguenza sterilizzate. Avevano degli aghi che sembravano aghi da maglia. Ne ho una ancora qualche parte, come ricordo. Eccola. Appunto. Sì. Erano siringhe fatte talmente in vetro. Ah, il solito martellino. Ah, il tronco encefalico, le meningi. Ah, ah, ah. Si prospetta una brutta cosa. Possiamo... Uh. Resizione maxillofacciale. Non capisco... Vabbè. Saranno studi dell'epoca, eccetera, eccetera. Libri comunque di medicina che comunque sono molto interessanti. Finché si potevano vedere, eh. Allora, lì abbiamo un documento. Però prima, fammi rasparlo un po' nei cassetti. Ci fosse qualcosa? Gioco, gioco, gioco. No. Volevo prendere le lettere. Queste, le... Ok, gioco, non ti fa prendere le lettere. Ok. Andiamo di là. Gioco, non fare questi rumori che mi inquietano, non sai quanto. Ok, vediamo un pochettino questo. Fascicolo amministrativo di René. 12 marzo 1938. René T. Anni 16. Pontedera. Mestruata a 12 anni. Casalinga. Padre ignoto. Madre sarta. Entrata in osservazione ieri mattina. Proveniente da Pontedera. Accompagnata da un agente di questura. Con ordinanza del signor giudice istruttore del tribunale di Pisa. Per essere sottoposta a perizia psichiatrica da me eseguita. Certificato medico. Malattia mentale preceduta da prodromi. Da un anno soffre di sindrome depressiva con idea di essere tubercolotica. Stenti alimentari. Non possiamo leggere questo documento. È vietato. Non si può. Se ci trovano saranno guai. Ok, qua siamo davanti a una scelta. Parla di René. Parla di te. Dobbiamo leggerlo comunque. Non aver paura non ti succederà nulla. È giusto. Non lo leggeremo. No. Beh, sia la prima che la seconda sono giuste. Non aver paura non ti succederà nulla. Effettivamente è così. Dobbiamo cercare Amara. Facciamo in fretta. Dobbiamo seguire i ricordi. Non permettiamo che si dissolvano. Dobbiamo cercare Amara. Abbiamo fatto la cosa giusta? Ha paura. Sente dei rumori. Sente gli spiriti. Manifestazioni gravi di psicosi ansiosa. Allucinata. Si presenta ansiosa, smarrita, espressione sofferente, sguardo interrogativo come spaventato. Orientamento incerto. Si sente confusa. Ode e delle grida nella testa. Non capisce bene. Da due o tre mesi non si sentiva bene. Interrogata risponde. Mia madre mi vuol male. Mi fa sempre paura. Mi perseguita. Perché è qui? Avevo bisticciato con mia madre. E io per l'impressione, per lo spavento, mi sono sentita girare la testa. C'era una donna che mi voleva ridurre alla vita di prostituzione. Volevano condurmi a rogo. I bambini mi sbigliavano. Mi chiamavano per nome. 16 marzo. Stanotte non ha dormito. Volevano condurla a rogo. 4 aprile. Trasferita nel reparto tranquille, sempre sotto la mia cura. Sì, è vero. Il reparto dove c'era Amara. Il rogo, sì. I bambini volevano bruciare René. Doveva pagare per quello che aveva fatto. Come le streghe. Al rogo. Ok, qua siamo di nuovo di fronte a un'altra scelta. Sì, il reparto dove c'era Amara. Il rogo, sì. Quindi queste sono le risposte che avrebbe dato lei. Non lo so, la butto lì, eh. Era questo che ti spaventava. Erano solo allucinazioni. Che cosa avevi fatto per essere punita? Io andrei su questa. No, abbiamo cannato. Abbiamo cannato. Il 21 aprile. Stamane è più sveglia. Risponde alle domande. Si lagna di cefalea. Dimostra di commuoversi nell'apprendere che c'è stata la madre. Racconta che un giorno, anni prima, trovandosi insieme ad una sua amica, trovò un tale che le fece salire in automobile e le condusse in gita. Colà le fecero fumare delle sigarette. Le diedero da bere dei liquori. E quel tale le fece vedere delle cose e tentò di farle del male. E la fece venire pazza. Dice che le promise di sposarla e le fece promettere di essere segreta. Questi fatti vengono all'ingrosso confermati dalla madre. In seguito divenne prepotente, aggressiva, insofferente, ostile ai familiari, specie alla madre. Si iniziò a svestire in pubblico, passando con facilità dal riso al pianto. Dice stravaganze. Unanismo. Non ricordo queste cose. Eppure il senso di colpa, il rogo... Io so che meritavo di pagare per queste colpe. Lo sapevo anche allora. Allora, io direi di cercare di... Capire il resto dal diario clinico. Ok, dovrebbe essere la scelta giusta. All'esame si presta malvolentieri. Non vuole lasciarsi scoprire. Si mantiene rigida. Attenzione volontaria quasi assente. Allucinazioni probabili. 25 aprile. Confusione ideativa. Impossibilità a sostenere un discorso spontaneo. Riflessi normali tutti. Pupille reagenti. Troviamo Amara e troveremo tutto il diario clinico. Ok, andiamo avanti. Ok, per ora fermiamoci qui. Abbiamo scoperto delle cose veramente da far accaponare la pelle. E purtroppo... Non si può dire che erano all'ordine del giorno, ma quasi. Nel prossimo episodio andremo avanti. Cercheremo di andare ancora più a fondo attraverso i ricordi della nostra Renée. e vedere quali soprusi, angherie, eccetera, eccetera, è stata sottoposta. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poca cazzo se volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!